I miei genitori mi hanno tolto la punizione per ciò che è successo a scuola, così posso andare a fare un giro. Ne approfitterò per andare al centro commerciale della città qui vicina. Sono arrivata alla galleria commerciale mezz'ora dopo, chissà se incontrerò qualcuno del liceo. Ho fatto il giro e non ho incontrato nessuno, che peccato. Ne approfitterò per prendere qualche pensierino per le persone a cui tengo. Ecco fatto, adesso mi resta solo il regalo per Rosa. Vediamo, cosa potrei prendere Rosa? Un paio di pantaloni, dato che sempre è nuda. Ma tu guarda, Keller, che ci fai qui? Questa voce... non mi sarei mai aspettato di vederti qui. Dake, ma cosa ci fai qui? E poi chi sono queste? Sono tornato per vedere mio zio. E poi, avendo la fortuna di potermi spostare da un paese all'altro, beh, tanto vale approfittarne. Ok. E poi, dalle scorse vacanze, avevo un'altra buona ragione per tornare. Mi ha fatto l'occhiolino e sono diventata tutta rossa ripensando al nostro bacio al mare. E' vero che qua ci siamo andate giù pese con lui. Mi ero dimenticata di questa cosa. Keller, questi errori di gioventù uno si fanno. Visto che ci siamo, potremmo approfittarne per passare un po' di tempo insieme. Ma scusami, c'hai le due tipette lì dietro e chiedi a me di uscire? Certo, sono senza occhi, mica ci vuoi stare con due senza occhi. No, guarda, grazie, ma sei in dolce compagnia e quindi, sì, sì, non voglio disturbare, rimani con le tue bambole. Abbiamo già dato una volta, non diamo due. Sì, sì. Al mare eri carino, interessante. Nel bosco abbiamo capito di usare logorroico maniaco e adesso, grazie mille, sto bene da sola. Ma no, queste cari ragazze mi aiutano semplicemente a trovare negozi di occhiali da sole, non è vero? No, perché manco sai usare, vabbè è vero che non sa usare le mappe, sappiamo che lui preferisce buttarle e girare a caso. Sì, che poi sinceramente il centro commerciale per trovare un negozio di occhiali non ci vuole un genio. Si è girato verso le ragazze? Sì. Mi hanno guardato in modo davvero cattivo. Lanciagli la fetta di Nutella, no, anzi no. Ma lanciagli una scarpa, il cibo si tiene. Scarpe possiamo anche farne a meno. Sono scarpe scomode, lanciagliele. Nel tacco fanno male. Allora, vieni, dai. Mi ha preso per un braccio, mollando le ragazze. Ma, cioè, madonna, Dake, però, almeno, cioè, un minimo di dignità, dai, educazione soprattutto. Sono contenta di poter passare un po' di tempo con lui. Siamo un po' bipolari, eh. Non è che abbiamo le idee molto chiare su quello che vogliamo. Proviamo a vedere come va. Diamogli l'ultima possibilità. Va bene. Trova qualcosa da fare, bene. Anche il gioco sa cosa dobbiamo fare. Area di ristoro. Il cibo va sempre bene. Sto morendo di sete. Ti va di bere qualcosa insieme? Dovrà pur esserci un bar da queste parti. Ci siamo passati davanti prima, scemo. Ho già fatto il giro del centro commerciale e ho visto solo una panetteria. Andrà bene. L'importante è sedersi e prendere qualcosa da bere. Vado a prendere da bere. Offro io. Grazie per prendermi da bere. Per bere. Almeno possiamo sfruttarlo. No, no, sì, sì. Sbagliato approccio. Cerca di affascinarci con le sue movenze, le sue frasi, effetto. In realtà basterebbe del pane e nutella. Sto aspettando a Deiko seduta in poltrona. Eh no, seduta nel cestino. Cosa devi fare, scusa? Questa frase è molto utile. Tieni, ti ho preso una soda. Ma ma mi spiegate i dialoghi e cosa servono. Comunque è meglio di Cassel che ci ha preso dell'acqua naturale, quindi... Sì, lo so, ma è radiosalto. Perfetto, grazie. Si è seduta al mio fianco. Allora, che fai da queste parti? È lontano dal tuo liceo. Sì, ma scusami, è il centro commerciale nella città. Vado al centro commerciale, è normale. Questo dialogo è disarmante. Avevo delle cose da comprare, degli acquisti per le amiche, affari miei, sai, cose così. Fumetti, soprattutto. Carino da parte tua. E cosa hai preso? Ho fatto vedere i miei acquisti a Deiko. Sono fortunati i tuoi amici. Mi manca solo il regalo per Rosa, ma non so ancora cosa prenderle. Ha fatto molto per me, per cui vorrei prendere qualcosa di speciale, di sorprendente. Se vuoi, posso aiutarti e cercare il regalo perfetto con te. Sì, dai, perché no? Abbiamo finito di bere e ci siamo alzati. E cosa dovete fare, scusa? Fare shopping dal divano? Si chiama Amazon, lo puoi fare da casa, in pigiama. Cos'è la richiesta? Cerca di trovare il negozio che Deiko cercava prima di parlarti, ma non dovevano cercare il negozio per Rosa? Ah, ecco dov'era il negozio che cercavo. Di cosa parli? Delle banane ammuffite nel mio frigo. Di cosa parla? Ma perché non riusciamo a connettere due? Questa conversazione è disconnessa di base, cioè connessa o meno lei non ha senso le parole. E poi non chiedeglielo che dopo ti risponde. Il negozio di occhiali? Non l'avevi ancora trovato? No, scema, ti ho detto che non ce la possiamo fare. Ah, io ho visto una conversazione del genere una volta, tra due organismi monocellulari. Ero concentrato su altro, a dire il vero. Mi hai fatto l'occhiolino. Vuoi che entriamo? Sì, vorrei regalarmi degli occhiali firmati. Mi piacerebbe tornare in Australia con degli occhiali made in Italy. Come vuoi. Cioè, tanto te li ti regali da solo. All'inizio ho letto se vuoi regalarmi, tipo, con cavolo che ti regalo degli occhiali. Però se te li compri da solo, tanto meglio. Cioè, anche perché costano un bel po'. Ma cavolo, questi occhiali sono davvero cari. Vai tranquilla Keller, a te non te li compriamo. Guarda questi, niente male, vero? Guarda, io prenderei quelli lì col teschietto proprio in mezzo, perfetti. Mi hai fatto vedere un paio di occhiali neri. Il qu'unico dettaglio fuori dal comune era l'etichetta con il prezzo a tre cifre. Sì, meravigliosi. Non sembri convinta. Diciamo che li trovo banali. Eccola. Mi immagino la commessa dietro che la guarda, tipo, come prego? Ma forse non li hai guardati bene. Hai visto sul lato? C'è la marca. Ah, allora. Ok, va bene. Sono così cari solo per questo dettaglio insignificante? Zacc. Diciamo che il concetto di moda di Keller effettivamente è abbastanza... Stai indossando i pantaloni del cosplay di Capitan Marvel. Quindi sì, il suo concetto di moda non è esattamente. E' quello comune, classico. Li prendo. Mi piacciono troppo. Ti starebbero davvero bene, sai? Ne vuoi un paio anche tu? No, grazie. Faccia attenzione a non spendere. Dopo aver speso e spanso per tutto il centro commerciale. Sì, ma perché noi non spendiamo i soldi in ok da solo, non spendiamo i soldi in merchandising. Come vuoi. Vai, vai, vai a pagare. Sparisci, noi ci dileguiamo, tipo. Ho fatto cenno di sì. Ho scelto. Prendo questi. Oh, cavolo. Che succede? Credo di aver lasciato il portafogli alla caffetteria. Ma tu guarda. Anche io avevo perso qualcosa prima. È proprio la giornata. Ah, sì, certo. La gente che fa cadere cose. C'è Lisandro nei dintorni che sta mandando delle vibes negative. Vabbè. Questo è il chiaro esempio, sono due dementi. Ah, no. Entrambi, proprio. Aspettami qui. Vado a cercarlo. No, vengo con te. Non lasciarmi da sola. No, che poi mi chiedo veramente dei soldi. Ma siamo matti, no? No, no, no. Io voglio uscire da sto negozio prima che mi chieda. Anche solo di tirare fuori la carta di credito. Dica è andato a chiedere al commesso se aveva entrato un portafoglio. E poi è tornato verso di me. Ti prego, fa che l'abbia perso definitivamente. Acce, l'ha trovato. Che poi magari c'è dentro pure il passaporto che gli sarebbe per tornare in Australia. Quindi era la volta buona che ce lo sbarrivamo. Se l'aveva perso davvero. Trovato. Ho un compagno di classe che non avrebbe neanche saputo dove cercare. Vedi, Lisandro è ovunque. E io pensavo anche a lei, in realtà. È uno con la testa tra le nuvole. Non immagini neanche a che punto. Perde le sue cose di continuo. Tanto a noi piace cercarle. Tanto non mi abbia niente da fare. Andiamo a prendere questi magnifici occhiali una volta per tutte. Dica ha preso gli occhiali e è andata a pagare. Ecco, saranno tutti gelosi dei miei occhiali. Se lo dici tu. Va bene. Mi fido. Ok. Sicura che non vuoi prenderli? Diciamo che preferisco spendere i soldi in altro modo. Cose. Cazzate. Dettagli. Dettagli, andiamo avanti. Sorvoliamo sui nostri acquisti. Esatto. Che la mia lista Amazon degli ultimi mesi è inquietante. Regali per gli amici, ad esempio. Per esempio. Forse dovrei fare come te. Ma non c'è niente di male a fare follia ogni tanto. Oh, guarda. Credo di aver visto un mio amico. Aspettami. Io sono allibita a queste conversazioni, veramente. Prima parlavamo di occhiali come due decelebrati. In panetteria sembravamo veramente decelebrati. E poi anche qua. Oh, guarda. Un mio amico. Ma cosa si fa veramente? Ma non lo so. Ma chi ha scritto questi dialoghi? Posso venire con te se vuoi? Cioè, so che ti vergogni di noi. Però, se vuoi, ti accompagno comunque. Io mi vergogno di te. Quindi diciamo che è quasi ugualitario come comportamento. Cioè, c'è uguaglianza tra di noi. No, resta qui. Non mi va che qualcun altro metta gli occhi su di te. Voglio tenerti tutta per me. Oddio. Zucchero. Mi sta uccidendo. Scappa. Cioè, dovremmo scappare. Aprofittare di questo momento per scappare. Sì, ok. Andiamo. Dake era appena entrato nel negozio e ho sentito qualcuno prendermi per il braccio. Questa poi. Ciao Keller. È da un secolo che non ti vedo. Mi sono girata di scatto. Tan, tan, tan. Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Leti. Ok. Cioè, se tu la conosci Keller, tanto meglio me la presenti. È una vecchia compagna di scuola. Anche Ken la conosce. Mi piace perché è come se il cervello di Keller fosse diviso in due. Una parte la conosce. L'altra parte, tipo, chi cappero è questa? Però mi piacciono i suoi capelli. Penso che lei abbia usato la giusta tecnica per non perdere le forcine. Ah beh. Ficcatele tutte in testa. Così sei sicura di non perdere in giro per casa. Sicuro. È incredibile come tu sia cambiata. Quasi non ti avevo riconosciuta. Sembri molto più sicura di te adesso. Dici davvero? Leti, non farmi commentare queste cose. Sì, sembri meno timida. Forse perché l'ho chialuto alla fine e ti ha lasciata in pace. Questa è stata cattiva. Povera, non sai quante volte mi hai fatto pena. A volte ti faceva davvero vergognare. Ma oh, ma cosa vuoi tu? Sì, ma sei una brutta... Pagarospa. Ma parli di Kentin? Ma non sai che mi ha seguito anche nel nuovo liceo? Oh, poverina. Mi dispiace. Ma suo padre non l'aveva mandato alla scuola militare. Sì, ma dopo. E infatti se lo vedessi adesso è riconoscibile. Saresti davvero sorpresa. Eh, guarda, adesso vorresti che lui ti seguisse. Per stupirmi dovrebbe essere più alto di 20 centimetri. Check. Avere gli addominali scolpiti. Check. Aver cambiato i suoi bruttissimi occhiali. Check. Oltre che il taglio di capelli. Check. Esattamente quello che è successo. Allora racconta, com'è il nuovo liceo? Ci sono dei bei ragazzi? Sì. Quando Lety si lancia sull'argomento non la smette più. Con fortuna. Io non esco con un ragazzo da anni luce. A liceo non c'è nessuno di interessante. Ma scusa, non uscivi con Mael, tu? E chi è Mael? Chi è sta gente? Ma mi spiegate perché io sto avendo una conversazione amichevolo con una tipa che l'ho mai visto? A quanto pare che lei era un passato. Ma io pensavo fosse nata dentro al liceo. Del Giamma Horace. Tipo forse si è sgusciata fuori da un muro. Generata, non creata. Sì, tipo tutti gli accumuli di polvere e degli armadietti siano solidificati e abbiano creato questo essere. E invece no. Quindi siamo formati davvero di DNA. Madonna. Non da scarti del pattume. Sì, però senza piercing non era granché. E anche Jeremy. Cioè scusa, che capperci entrano i piercing? Scusa. Jeremy? Chi è Jeremy? Mael, Jeremy, Leti. Ma chi cazzo? Il tuo passato non mi piace, Kelly. Sappilo. Sì, ti ricordi il bel moro alto che era sempre dietro di noi al corso di mate. Sono uscita con lui dopo Giulio. Poi sono uscita con Teo, con Kevin, con Daniel, con Marco. Ma insomma, niente di che, non è durata. Sono single da una settimana adesso. Mmm, devo dire che penso che il tuo nuovo fidanzato sia la mononucleosi. E una settimana per te è un'eternità. Ok. Ma certo. Non sono più abituata ad essere single per così tanto. E questo è il problema con Leti. È simpatica, solo che si innamora ogni cinque minuti. Questo non è il posto ideale per parlare di queste cose. Andiamo a fare un giro fuori, piuttosto. Mi dispiace, non posso. Sono con qualcuno. Tiè. Tiè, in realtà non vorrei essere né con te né con lui. Quindi mi lasciate da sola. Voglio tornare al mio pattume nascosta. Dal buio, devo rigenerare le mie forze con l'umido del pattume. Sei venuta con le tue nuove amiche? Eh, non proprio. Diciamo che questa amica è un po' più scolpita. Keller, scusa se ci ho fatto aspettare così tanto. Non vedevo il mio amico da tempo. E avevo dimenticato che parla così tanto. Non so perché sembra quasi che tu abbia una tresca col tuo amico con sta voce, ma va bene. Sorvoliamo. Continuiamo che è meglio accupiarti col tuo amico che con noi. Ciao. Ha visto Leti? Dic, ti presento Leti, una mia vecchia compagna di scuola. Piacere. Oh oh. Piacere mio. Pronti? Partenza? Via. Gli si è attaccata al braccio. A meno lei agli occhi. Come ti chiami? Sei di qua? In che liceo sei? Vado subito a iscrivermi. Ma guarda, Dic mi aveva detto la stessa cosa quando ci siamo conosciuti. Sì, sono fatti proprio uno per l'altro. Calma, calma. Mi chiamo Dake, vengo dall'Australia e sono qui solo una settimana. Madonna mia che descrizione! Che cosa, che cosa tipo... Wey bella, io sono Dake. Io sono Kelly. Eh, vengo dall'Australia. Sono un canguro del side. Cazzo vuol dire sta roba? Beh, in una settimana ne possono succedere di cose. Ok, noi vorremmo scaricare Dake, però se andiamo con lui la fine dell'episodio è molto più divertente, quindi... Proviamo. Noi scegliamo il divertimento, dai. Proviamo. Avevamo detto che gli davamo una possibilità. Esatto. Oh no, non voglio che Letty mi prenda Dake. Devo farle capire che lui conta per me. Noi scegliamo il divertimento, dai.